Fino al 25 settembre nella Biblioteca della Regione è allestita Torino Internazionale, le grandi expo universali tra 8 e 900, ideata dal Centro Studi Piemontesi. In mostra, immagini e cimili storici sulle tre esposizioni universali che si tennero a Torino tra 8 e 900, prima della memorabile edizione del 1961 per il centenario dell'Unità d'Italia. Proseguono inoltre le mostre itineranti del Consiglio regionale, concesse in prestito gratuito e allestite presso enti piemontesi. Fino al 30 luglio, a Capri, nel Turinese, è visitabile la rassegna fotografica I Tremonti Consacrati all'Angelo, Storia e Iconografia. A Begno Anzino, in provincia di Verbania, è visibile fino al 18 agosto la mostra Sulla Vetta dell'Umorismo, 300 riproduzioni e disegni di Puff, al secolo Casimiro Teia, uno dei più importanti fumettisti piemontesi.